San Zaccaria Zaccaria, che significa il Signore ricorda, è il profeta più citato nel Nuovo Testamento dopo Isaia. Nato a Galaad dalla tribù di Levi, fu chiamato al ministero profetico nello stesso anno di Ageo, nel 520 a.C. Mediante visioni e parabole, egli annunziò l'invito di Dio alla penitenza, affinché si avverasse la promessa della venuta del Messia. Egli annunciò al popolo dei giudei, tornati dall'esilio, ecco, io libererò il mio popolo e lo ricondurrò a Gerusalemme. La sua profezia si avverò alla lettera, con l'ingresso solenne di Gesù sul dorso di un asino nella città santa Gerusalemme. Zaccaria compì molti prodigi, morì in tarda età e venne sepolto accanto alla tomba del profeta Ageo.